Beh, non mi sembra chissà quanto diverso questo mondo. Questo è decisamente LOL. Sbrigati, Lonnie, dobbiamo andare. Wow, Loki, ma chi ha spostato la porta? Sono pronto, fratelli. Rock and roll! Allora diamoci una rollata! Buona questa, signora Cocco. Dramma. Basta star mazzare, Lexo! Ti beccherai un raspo nei pantaloni! Tocca mi e lo dico subito! Mamma! Stavolta tutto il tronco! Voi, Leandertal, diminuireste la cacofonia così che il vostro fratello riprenda lo stato di semi-incoscienza? Farla come mangi, Levi! Chiudete quelle boccacce così Leon può dormire. Per dindirindina! Dov'è che andate? Per negozi? Sei decisamente uno spasso, Lincoln. Andiamo a Latteria Land. È stata una tua idea. Stupendo! Le mie sorelle non sarebbero mai venute a Latteria Land. Sorelle? Eh, dicevo, le suore. Odiano i parchi divertimento. Che si bastano? Caspita, è stata una giornata favolosa! Idea spettacolare! Sì, sei stato forte, fratello! Fantastico! Bravo, ragione! Ops, scusate. Fai bene a chiedere scusa? Perché potevi fare meglio? No, per favore, fratello, senti questo. Sì, nessuno batte il professionista. Riempiamoci lo stomaco. È un bar con sala giochi. Non ci credo! Cinque pizze per dieci pazzi. Spero che mamma e papà ci abbiano dato il giusto grano. Capita? Scusate, ho toccato la pizza con il dito che mi metto nel naso. Stai scherzando? Tu ti metti quell'inutile di Tino nel naso. Io uso il pollice. Ma sì! Ci vuole inutile una buona impresa, fratelli. Ecco il mio esercito. Com'era la Terrialand? È stato grandioso. Ciao, mamma. Ciao, mamma. Ehi, ragazzi! Occhio su papà! Ti abbiamo preso! Di che ti arrendi? Cosa volete che arrenda? Ti arrendo! A volte mi chiedo come sarebbe avere delle figlie. Mancano dodici ore. Vorrei che questo giorno non finisse mai. Ma non deve finire per forza. E se non tornassi indietro? Ho perso la mia mazza. Ragazzi, indovinate? Resto con voi. Ok. Come vuoi. Un attimo, fratelli. Prendo il mio bastone da ok. Vai, vai! Prendila! Prendila! Slim, dov'è la mia camera? Dov'è sempre stata, fratello strampalato? Ci stiamo in tre qui dentro. E dov'è la novità? Volevi la camera singola? Ehi, perché non c'è Bum Bum? Qualcuno l'ha buttato. Lars gli ha fatto un funerale davvero molto dignitoso. Grazie. No, Bum Bum! Beh! Notte, fratello! Sono scappati i miei pipistrelli. Uno per avermi svegliato. E uno per avermi graffiato la bara. Che male! Non c'è fila per il bagno? Che favola! Cos'hai nel cervello, fratello? Perché mi hai svegliato? Luke, guarda quanta schifezza c'è in questo bagno. Hai ragione, fratello. Non possiamo vivere così. Puliamo tutto. Cominciamo col gabinetto. Ehi, ehi, ehi! Arriva il vortice, ragazzo! Ricordate quando ho detto che volevo rimanere qui? Beh, lo escludo totalmente. Ho ancora cinque minuti per tornare indietro. Dov'è finito? Wow, proprio bello questo orologio. Ehi, quello è mio. Chi trova prende, sfigatone. No, mi serve! Lasciategli l'orologio. Ho un appuntamento. Ragazzi, vi prendiamo una cosa seria. Ehi, ragazzi! Mucchia su, papà! No, no! Mi arrendo, mi arrendo, mi arrendo! Ecco, appena in tempo. Ehi, puzzione! Ho quasi dimenticato una cosa. Grazie a tutti!